Musica Ciao ragazzi come benvenuti in questo nuovo video di minecraft Ci troviamo oggi finalmente nel trentesimo episodio di questa bellissima serie di sopravvivenza Senza gli audio del gioco Ok sono tornati ragazzi Ci troviamo oggi finalmente nel trentesimo episodio di questa bellissima serie ragazzi In cui nell'episodio di oggi finalmente andremo nel land a cercare di sconfiggere Lender Dragon Per la prima volta in minecraft Anche perché è davvero la prima volta Perché io sul mio computer per esempio non sono mai andato nel land Sono andato con Marci nella nostra serie Justo per vedere come fosse ma io di mio nel land non sono mai andato Non ho mai provato a sconfiggere Lender Dragon Quindi per me è una novità assoluta Vedete nel mio inventario mi sono riempito davvero di un sacco di un sacco di roba E ragazzi nello scorso episodio ne ho già parlato anche nella live di ieri sera Un sacco di voi hanno indovinato l'ister egg che non è che fosse stato tanto 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 difficile Saluto davvero spero tutti quanti nel prossimo episodio Perché oggi voglio incentrarlo tutto quanto nello scontro con l'ender dragon Ho migliorato giusto qualche tipo materiale qualche roba ragazzi Quindi secondo me mi sento davvero molto molto pronto Ho preso un sacco di legno ragazzi per fare un sacco ma un sacco di scale Secondo me tre stacche quasi quattro vanno più che bene rega Io metterei via questo legno che ho messo molto molto bene l'inventario secondo me rega Per affrontare una roba del genere nell'end Io metterei queste ender pair al posto del piccone del piccone no al posto dell'ascia Nel caso di un ender dragon ci sballonzo l'asso da qualche parte così in modo strano Noi potremmo salvarci in calcio d'angolo Ho anche queste 29 meri ragazzi perché mi metto anche di fare qualche mela d'oro Nel caso mi servisse questi 60 pezzi di oro e io quasi quasi rega qualche mela d'oro Me la faccio volentieri me ne posso fare 7 Vanno più che bene no? Infatti una ne ho qua Ok dai secondo me 8 mela d'oro vanno più che più che bene rega Direi oggi facciamo solo questo In live ieri ragazzi stavano iniziando l'isola appena e poi cresce tutto quanto là in fondo Magari a fine piazza sconfiggiamo l'enderdragon oppure vediamo Comunque direi iniziamo già a dirirci verso il nostro portale dell'end che è da quella parte là Perché ormai molti di voi si ricordano che il mio portale dell'end è tutto quanto pagato Direi oppure ci tornano là dai rega ci tornano direttamente là Oddio ma questa prodotta qua è stranissima rega Anche con la texture tierless non mi ricordavo che gli alberi della palude facessero sto effetto Ok ormai siamo arrivati rega e non sembra nemmeno noter con questa texture Però siamo davvero pronti qua pieno di creeper con gli scheletri quelli del ghiaccio Quindi siamo davvero pronti Tecnicamente mi sembra che il portale era di là dove c'è tipo il pozzetto d'acqua Vediamo un attivino Siamo intanto qua c'è tipo la specie di farm iniziale che avevo fatto qua però vabbè Poi penseremo più avanti qua c'ho gli ultimi tre enderai da mettere dentro al A sti cosi qua che non so come si chiama per creare il portale dell'end Rega siamo pronti? Allora gestiamoci al video bene l'inventario Poi metterei per esempio le cose un po' più comode così Vai van bene Siamo pronti? Wow rega sono carichissimo Vai Di end Vedi ho sbloccato pacifemente Dove sono sponato? Eccolo qua Perfetto allora Calma un attimo Qua è pieno zeppo di enderman Quindi bisogna studiare un attimino la zona Mangiamoci subito una mela d'oro Così a random rega Perché a noi ci piacciono così Poi iniziamo subito a tenere un ordine Per tipo spaccare gli ender crystal Quindi calma un attimino Rompiamo questo Ok Uno rotto Poi perfetto Vediamo se c'è qualche Ok lì c'è l'ender dragon che è preso molto male Mi sembra che devo portarmi delle boccette Rega non mi sono portato delle boccette per prendere il Come si chiama? Tipo il fiato del drago O roba del genere Comunque Quale ho rotto? Ho rotto il più basso Che non mi ricordo qual è Vabbè rompiamo quello rega Che è il secondo più basso Dai No ho già triggerato un enderman No ne ho triggerati un foto No ma chi vuole voi? Oh No 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 Allora calma Oh calma rega Ne ho triggerati No non è vero che ne ho presi così tanti No 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 Rega rega No 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 rega sono nella merdissima Andiamocene Se ce ne andiamo non ci seguono vero? No 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 Questi qui ci stanno seguendo Calma Mangiamo Allora No no perché li sto picchiando come un arco? Ma sacco di merda Oh final No ne triggerati un foto Facciamo una salittina con le scale Con calma Marco Ce la si può fare Minchia rega sto registrando questo video qua Mezz'ora prima che il video deve uscire Vi avviso Quindi sarà una battaglia molto No 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 Ok calma 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 Abbiamo fatto un sacco di scale rega Quindi sta cosa qua va un sacco bene eh Siamo stati strattati A farci tutte quelle scale Non rompere le palle Ender Dragon Ti prego Non mi rompere le palle Minchia ma ha sparato lontanissimo prima rega Ok No ok Mamma mia meno male che ho preso le scale al volo Meno male Allora Lanciamoci un attimino giù rega Prima che poi ci spari giù l'Ender Dragon Perfetto Allora Facciamoci subito di full di scale E risaliamo da questa parte Dobbiamo tenere un ordine per l'Ender Crystal Rega No 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 Una molla Uuuu Rega se mi spara giù Mi ammazzo io No 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 Ok Ok perfetto Dobbiamo restare velocissimi No 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 Ok Wow Ok Perfetto No Rega Rega mangiamo rega Mangiamo la mela d'oro Rega mangiamo la mela d'oro Mamma mia tre cuori Mamma mia con tre cuori Rega abbiamo riscato un sacco No 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 Mollami 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 Ok Ok Ne ho preso un altro Rega siamo praticamente su un altro Ender Crystal Rompiamo anche questo No 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 Uuu Ok rega stiamo salendo Questo qui dovrebbe essere tipo il quinto o il sesto No 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 Calma ho finito le scale Mamma mia ho parato una palla dell'Ender Dragon così Me lo volete dire Col blocco di Cobblestone Allora rompiamo questo Poi ci mangiamo una mela d'oro Rega E ci interpelliamo da quello là Proviamo a farla Boom Ok Eh no Non ce ne sono di più bassi Vero No Proviamola così No 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 Mamma mia rega Federfall in 4 mi salva il culo Un fotto Uuu ne ho balzato uno Sono un pirla Ne ho balzato uno da pirla Ho tre mele d'oro Va bene Tanto alla fine il vero gioco qua è Prima di studiare l'Ender Crystal Perché poi alla fine Non è che sia tanto ossico Distruggere l'Ender Dragon eh Quindi rompiamo qua Fatto fuori anche questo Prendiamoci la cover Perché ci servirà rega Perché ho finito Le scale Rega Ansia Molta molta ansia Molta molta ansia Sinceramente non so quanto Io stai tagliando eh No 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 Vabbè Di poco Mi ha sparato giù poco poco Rega lo so che è stato un pirla Per la storia delle boccette eh Però Nel Nel sovrappensiere non le ho prese Wow Wow Allora Tecnicamente deve essere quasi arrivato in cima eh No 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 Wow Calma Almeno Tipo Attuttiamo la caduta rega Perché non sapevo dove stessi per cadere Va bene così Mamma mia Mamma mia un enderper Mi ha salvato la vita eh Mamma mia che giocata Va bene così Va bene così Dove essere quasi arrivato in cima Ok facciamo saltare anche questo E mangiamo Un'altra mela d'oro Uh Mi enderperola rega Proviamola Boom Così in salto No mollami Ok perfetto Mi manca No rega Così lo sbaglio Mi enderperola rega Un attimino Calma Mi rimane solo l'ultimo ender crystal Minchia rega Come l'ho fatto saltare in era con Così Così Con un enderper Top Allora Cosa sta succedendo No 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 Allora Ok va bene Va bene Federfall in 4 come sempre ci salva la vita rega Ok Questo qui è l'ultimo Perfetto Questo qui è l'ultimo Allora Mi enderper Dov'è l'enderdragon Allora mi enderperolo giù rega Mi enderperolo giù Bomba bomba rega Tanta roba Tanta roba Metà vita lì andata Ora dovrebbe tornare qua Il sacco di merda Vieni qua Vieni qua ancora No Di pochissimo Non l'ho preso Minchia No 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 Ah Merda ancora eh No Di pochissimo No ancora Dai vieni giù Sacco di merda Vieni giù Dai se c'hai le palle Eccolo qua No no A me non mi prendi eh Con il tuo fiato di merda Il peggio era di suggerire ender crystal eh Però Tanta tanta roba No 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 Taccami del perlo Sennò prendo un sacco di danno eh Volevi eh Sei incastrato No 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 Vabbè vabbè Neanche di tanto rega Mi ha sparato via eh Va bene così Gli rimane metà vita Ok Ok perfetto Gli rimane poco eh rega Secondo me Ancora tre attacchi Così dal basso Lo uccidiamo del tutto Però mi sto finendo l'arco No No Sacco di merda Ancora provato a colpirmi Rega sono un pirla Per sta roba qua Delle boccette Che mi sono dimenticato eh Rimane pochissimo Gli rimane pochissimo rega Boom 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 Fuori l'ender dragon Rega troppa esperienza Quanta esperienza è Madonna mia È tantissima Ok Vediamo Cinquantacinque e quanta Ma è tantissima Sessantasei di esperienza Boom E lì c'è il coso per il void Mangiamo rega Ma io voglio prendere l'uovo Come faccio? Ho più o meno pensato Marci non mi ha ancora risposto Potrei prenderlo col pistone Se io non sbaglio Che io ricordi Quindi devo tornare un attimino a casa Adesso mi uscirà tutta quanta La scritta di end Queste robe Però facciamo così Esc Torniamo a casa Comunque Dobbiamo craftarci un pistone Dobbiamo avere anche una torcia di redstone E bellissimo pistone Che ci facciamo Così ci prendiamo altri pezzettini di legno Tac 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 Poi un pezzettino di ferro in mezzo E tac Pistone fatto Ora bisogna tornare ancora al portale Che ansia Ok rega Allora l'ho toccato Mi ha detto Marci Che ha dato via massimo di 20 blocchi Infatti è qua sotto Perfetto Allora Che io ricordi Dovrei mettere Tipo No allora Facciamo una roba del genere Noi mettiamo il pistone qua E noi mettiamo una torcia di redstone così Bam Mi ha droppato l'uovo del drago Che è top Spacchiamo il pistone Togliamo la torcia Rimettiamo questo blocchettino qua Perché sennò fa un pochino cacare qua Togliamo tacco contro la piattaforma Rega E concludiamo così l'episodio Dai Perfetto ragazzi Per questo episodio della vanilla ultima Quindi spero che vi sia piaciuto Da Mark è tutto Da Vittoria contro la De Drago è tutto Mi raccomando Lasciate un piacere nel commento Per questa bellissima vittoria Bella Bella